Il Litorani batte il cupo per 3 a 0, siamo con Pricciotti, è stata una partita difficile soprattutto nei primi due setti. Sicuramente, loro sono una buonissima squadra, hanno dei buoni giocatori, giovani e quindi era una partita importante. Abbiamo giocato noi bene come sappiamo fare in casa e li abbiamo messi sotto. Loro inizialmente hanno giocato bene, erano in vantaggio, ma poi siete riusciti a recuperare soprattutto nel secondo set dove è stato avvincente punto a punto, però poi avete preso il sopravvento grazie a due buoni spettacolari. Assolutamente, noi come ho detto prima in casa siamo un'altra squadra, siamo fortissimi. Siamo riusciti a recuperare i punti, abbiamo fatto delle ottime giocate che ci hanno permesso di colmare il gap che ci separava dalla squadra e abbiamo vinto il set. Forse è l'avversario più difficile che si è visto alle due anni. Non sono d'accordo, forse è quello che ha giocato meglio alle due anni. Ok, grazie.